Mia figlia studia pianoforte con risultati mediocri, ma è mia figlia. Perciò mi sono messa una maschera e le ho detto, goditi il tuo talento, anche se so che perde tempo. È come una bestiolina che impazza in desideri, ma è mia figlia. Perciò mi sono inventata che ha vinto una borsa di studio in pianoforte e ogni mese le faccio arrivare un assegno pagato da me. Lei adesso mugugna di meno, ma io resto dannata alla macina dei soldi. Commento. I genitori sublimano spesso i loro figli, li trattano da eroi, gli concedono tutto ciò che vogliono. Questa per le guide è una cattiva educazione alla vita, che in genere dice no e poche volte sì.